bottiglia appena presa ok vabbè ragazzi siamo in live si raga ho deciso credo che farò tutta la settimana rogue poi la settimana prossima già vi dico ho acquistato due giochi io ovviamente ragazzi provo in live però bisogna vedere perché può darsi proprio che fanno la fine di di come si chiama payday che non ci gioco proprio però vediamo allora sono uscite pure le missioni e vi dico la verità le sto facendo perché alla fine non ho niente da fa vabbè comunque ti danno i bauli che hanno skin cazzi e mazzi allora vediamo che missioni possiamo fare allora innanzitutto io andrei qui togliamola vabbè 5 revive penso si possano fare però non so vorrei missioni più potremmo fare roba vabbè dai facciamo queste sono pochi crediti però vabbè ero qui shotgun però vedete dobbiamo usare la shotgun quindi fucile amp granade vabbè una cazzata play 20 strikeout potremmo fare ma gli strikeout raga un po' li odio 20 strikeout poi sono tantini non lo so non so se fa strikeout perché durano veramente troppo però in strikeout comunque riesce a fare parecchie missioni poi c'è la roba con switch blade senti voglio cambiare qualcosa dammi qualcosa di di buono ma aspetta cazzo senti prova a cambiare l'ultima ci provo proviamo vai forse sarà meglio 5 revive vabbè 5 vabbè vabbè dai facciamo facciamo strikeout ho paura strikeout e andiamo con umbra però andiamo con umbra poi raga si come potete leggere dal titolo il domani è il mio compleanno infatti vi ricordate il pacco che mi diede a Giulia cioè che mi spedì Giulia e che mi ha fatto vedere live bene quel pacco lo aprirò stanotte a mezzanotte stanotte a mezzanotte vabbè mezzanotte eccetera però aspettate io devo vedere una cosa prima di prima di tutto devo andare un attimo su youtube perché io tagliai un video il video di fortuna io l'ho tagliato fatemi vedere un attimo voglio vedere se effettivamente sono riuscito a tagliare quella parte allora mi pare che era a 40 minuti fatemi vedere un attimo no non è qua no mi sa che è dopo l'ho aspettata ok mi sa che è qui fatemi vedere un attimo alzo pure il volume ah per gli aggiornamenti ok vediamo se si riuscita a tagliarlo giù è il pacco tuo aspetta spero solo che non si è visto perfetto perfetto si è tagliato proprio da dio wow duro ok ok buono buono quindi non si vede non si vede niente lo aspettate sto chiudendo giusto qualche pagina ragazzi ho un botto di pagina aperta lo aspettate ok ho chiuso pure Twitch per sbaglio spero solo che non non so se Giulia ha scritto perché ho chiuso pure Twitch per sbaglio vabbè allora la squadra sì ma loro saranno tutti i Mastery quanto ci volete scommettere beh ah ok due Mastery ok vabbè ma vabbè abbiamo capito che il Mastery non serva a niente perché c'è gente che praticamente gioca con i personaggi a livello 0 e ti sciottano tipo il tizio giapponese vabbè vediamo vediamo un po' cosa riusciamo a fare allora vediamo io ovviamente raga il problema però è che Omo devo giocare con la pistola devo giocare con la pistola raga devo giocare con la pistola madonna perché devo fare la missione con la pistola che palle vabbè vediamo la perderemo perché raga la pistola non è proprio semplice da utilizzare però proviamo allora ovviamente dobbiamo usare pistola e lethal weapon quindi lethal no lethal gadget scusate quindi dovrebbe essere vabbè quello che ho io credo vada bene solo che mo l'hanser ce la potremmo trovare vai presa perfetto 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 no raga questi me ci fottono da dietro io rimango nel punto ecco presa c'è gente qua mamma mia solo pistola ah siamo in 3 oh godo solo pistola raga e siamo ahia aspe mamma mia raga ma che sto a combinare solo pistola vista reggetemi l'hanno fatto vabbè eh vabbè ragazzo ecco giulia e raga purtroppo sarà veramente tosta vincere così perché ah sono 3 3 contro perfetto c'è gente qui no merda ma sta laggata non lo so se è il server ah perché mi sa che è entrato qualcuno da noi ecco perché ha laggato ho detto ma perché sta laggando ok 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 mi snervo un po' quando lagga però ci sta che lagga perché entra gente che ho visto gente qua 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 mamma mia mamma mia mamma mia che sto a combinare solo con la pistola si sono arresi si sono arresi oh ho fatto più kill di tutti mi sa con la pistola vabbè troppo forte 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 grazie grazie giulia grazie che poi il 2 dicembre forse ma il 2 dicembre che giorno è? sto pensando aspetta allora 29 è mercoledì ma non so il mese quando finisce il mese finisce il 31 eh no cazzo sto entrando in una partita già vabbè no 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 aspettate vabbè 0 a 0 dai comunque no vabbè vi spiego un attimo perché sto dicendo questa cosa perché il 2 dicembre dovrebbero fare l'evento di l'evento di Eminem su Fortnite quindi non so sono curioso magari lo stream poi non so se si può fare ecco che mira di merda perfetto un po' di difficoltà raga nachert sorry merda grazie stavo morendo sono troppi sono troppi ma ragazzi ho rimasto con un colpo oh cazzo ragazzi non ho colpi sentici provo non ho preso nessuno sono morto no no è sparito si raga ma come come l'ha uccito non ho colpi eh vabbè non so giocare con i punti il 30 ok 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 allora aspetta mi faccio un attimo un calcolino al volo allora ehm aspetta aspetta fammi vincere l'antimo sta partita vai bravi che cazzo c'è uno qui c'è uno qui c'è uno qui aspetta sì ma chi perfetto rimane uno dai raga è vostro è vostro è vostro è vostro perfetto il 2 è sabato vabbè non so si potrebbe fa perché stanno dicendo che forse come l'evento di travis scott potrebbe essere carino o ci faccio una live o ci faccio un video non lo so forse alla live però sarebbe meglio vediamo beh raga sta succedendo qualcosa di strano nel gioco se notate si sente due volte il la musica si raga si è banchato l'audio sento due volte bah vabbè ok easy no raga non vedo un cazzo come ha fatto a non ucciderla ancora invisibile ok l'hanno uccisa allora state fermi io la vedo quella però si sta a fare il giro vabbè comunque si è un'idea carina si è si potrebbe fa che cazzo c'è gente dietro gente dietro guarda me e c'è uno dietro eh sono morti che culo eh non è proprio semplice infatti che non ho preso granate non ho preso niente dai raga non possiamo perderla dai sto giocando guarda sto giocando solo con la pistola comunque se mi coprite preso non sta arrivando qualcuno non so sto vedendo un attimo che va a finire che questi si fanno il giro oh merda 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 un po' di danno gliel'ho fatto eccala vabbè vado gli do una mano bravi 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 purtroppo raga lo sapete che io non ci sento molto proprio per il fatto che ho l'orecchio tappato quindi non sento quasi niente non sento quasi niente no quasi cioè a sinistra non sento niente si può dire copri 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 qui ce l'ho dietro no raga non in quel senso ma che bella è morta bella bravi 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 si e non lo so io vabbè gli eventi su fortuna non li ho mai cagati a parte qualcuno giusto per fare qualche punto però erano era tutta gente strana c'erano diciamo che penso che ovviamente vengono pagati tipo tu paghi la epic che sono quelli là che insomma fanno fortnite cioè quelli che sviluppano fortnite e li paghi e loro ti fanno pubblicità nel gioco ecco tipo c'era gente tutta strana che cantava alcuni erano pure fighi perché erano eventi proprio carini però non sono eventi cioè sempre questo di Eminem secondo me sarà un evento di Cristo babbo a me Eminem mi piace non è che lo seguo assolutamente però sono uno di quelli a cui piace me gusta Eminem me gusta Eminem Eminem c'è uno qui si però purtroppo la pistola è lenta vabbè dai stiamo a vincere per ora bella sì vabbè come cazzo ha fatto a pigli armi merda merda eh vedete sanno se sono fottuto il punto giustamente c'ho la tizia dietro però merda porco 2 ma che cazzo oh raga non l'ho proprio vista pensavo si fosse fatto vabbè pensavo si fosse fatta il giro non ci ho proprio fatto caso cioè raga dai è l'ultima vinciamola prova a fare un giro same ci sono pubblicità eh bravi aspetta no merda merda e ma stanno a camperà porco di quel beh meno male che mi hanno fatto uscire già di qua bravi va porco no raga dai che palle ci stanno a fregare proprio che palle senti devo usare il ragno bomba eh ma il problema io lo voglio pure utilizzare però sto un attimo in difficoltà sentici provo vai no ok vai fatto so se c'è gente lì bravo arrivo 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 bravo ma ce l'hai davanti eh raga ma con la pistola è ok cioè non è proprio facile perché poi la pistola è un colpo niente ma vaffan- uah eh niente non vi prego mamma mia no mi abbiamo perso la capa lisa senti io ci provo ma è persa eh sì vabbè bravo mamma mia bravi 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 ma vaffanculo ma che cazzo ti prego ti prego ti prego eh vabbè raga no ma è vabbè perso oh no uno contro uno no fra no ecco questa è una di quelle cose che mi dà troppo fastidio vi giuro mi danno troppo fastidio arrivare uno contro cioè arrivare uno contro uno alla fine e perderla questa è una di quelle cose che odio tantissimo però vabbè non ci puoi far tanto poi vi ripeto la pistola è una buon'arma però cioè non è più facile utilizzarla senti vado si dai vado col coltello però vabbè non lo utilizzerò per ora spero che non se la piglia in negativo no si sono fatti il giro eh niente si sono fatti il giro ho sprecato il ragno cioè vedete non è poco facile mirare cazzo niente ma ha fatto oh che ah merda ma che culo aspetta ti vengo a dare una mano che falle mi dovevo pigliare la mia rivincita godo dove è il mio coltello oh ma l'ho shottata vabbè perché forse già io ho fatto danno eccetera dai questa la vinciamo dai raga destra ottimo così giocheremo io e giulia ottimo vai dietro vai qualcuno si sta affattando il punto ma vai vai però vedete quanto mi fa accusare sta cosa oh merda vai vai ragnetto vai nye 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 oggi no oh god wow questa la sto acchiappando sempre in testa god wow wow l'ho preso god guarda cazzo ha fatto devasto questo coltello e non è manco livellato al massimo dietro no merda preso wow raga ma che cazzo c'ho la mira di di gesù ma ma sto a fare devasto aspetta no è sparito il coltello laggata vinto perfetto giulia se la ride risata crepapelle risata crepapelle risata ah io non ci sto ah perché mi sa che io sono entrato dopo ho sbaglio no sono entrato dopo eh sono entrato dopo l'ho vinta quindi mi da più punti abbombazza fammi idea oh se mi ha dato più punti eh si save the day vabbè wow tantissimi punti 33 sapete dove me li ficco 33 punti bene allora fatemi vedere una cosa allora ok spendi 350 vabbè quello si fa con kestrel vabbè hit 30 enemies con amp granade vabbè mo vedo e shotgun eh quello dello shotgun è impossibile raga 40.000 danni con lo shotgun cioè devi giocare un botto vabbè aspetta vediamo un attimo chi c'è la la amp 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 vediamo dallas e vivi mi pare che vivi c'ha il pompa però eh se c'è il pompa me lo vado con lei onestamente vedete ah no cazzo e invece dallas no dallas c'ha no il tattico e l'assalto mi pare eh sì eh sto pensando sto pensando che missione fare effettivamente allora breacher rug vabbè questo me lo faccio ok e chi è breacher vabbè mo vedo aspettate oh potrei fare shotgun e breacher perché forse ce n'è uno vabbè mo vedo shotgun shotgun ok shotgun e breacher ok che bravo che sei oggi beh in realtà dipende tutto dal team giù questa è la cosa brutta di di rug ad esempio sul realme lì devi essere tu bravo che se giochi uno contro uno cioè no uno contro uno se giochi da solo e vinci fino alla fine lì sei bravo tu però in questi casi qui è la squadra perché se tu rimani da solo contro una squadra un'intera puoi pure vincere perché dipende perché ovvio siete a chi ha più quattro pipponi cioè te li fai tutti per sé a chi ha più quattro che almeno sanno sparare decentemente eh perdi ti penso a mio cugino per me c'ha una mirada di merda e lui lo sa glielo dico spesso per esempio lui se stesse lui cioè lui più altri tre uguali a lui probabilmente perderei perché comunque su quattro cioè non è che c'ho i i colpi ovunque allora fatemi un attimo un brisher di E e chi ce l'ha il pompa ah lui 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 ah no ma pure glitch glitch o cannon apriamoci cannon dai si sta beccando giocatori decenti però sei bravo ah beh sì ovvio comunque devi essere bravo perché sennò non vai molto lontano ecco ad esempio questa squadra questa squadra vista così mi sembra scarsa ed è un bene se sono scarsi effettivamente ma da c'ho i capelli che sono proprio strani più che altro madonna questo personaggio ad esempio non mi è piaciuto a livello estetico cioè tipo non so perché c'ho i capelli alcuni capelli che sono tipo bruciati mi vanno tipo davanti agli occhi infatti me li taglio cioè i capelli singoli me li taglio aspetta mi devo pigliare un attimo il fucile a pompa è quale però no questo raga questo qua di glitch così lo livello pure almeno fate team sul serio però dipende sempre dalla squadra ad esempio in questa squadra forse chi era che era forte Mac è un bel personaggio però vabbè vediamo vediamo comunque ne devo vincere due vabbè ovviamente faccio le missioni e poi si avanza tempo faccio anche altro si avanza tempo c'è altre missioni che ho visto qualcuno vai come ho fatto a non morire però è questo il problema di fucile a pompa purtroppo riesce a spara solo un colpo si ragazzi comunque ci stanno cioè veramente ok ecco ecco io mi ho detto i livelli no però intanto ci stanno sfondando papamia vabbè ecco questa è partita molto ma cioè visto in quel modo ho detto ok questa la vinciamo e invece non ci stiamo cioè non abbiamo non hanno perso un punto niente dai raga ma è impossibile ultimo posto io però ho fatto più danni di tutti cioè non lo so non lo so ce la vado a questo mamma mia vabbè però vi dico la verità proviamo cioè raga ci stanno sfondando merda eh vabbè raga vi avete sottovalutati eh sì giù ma cioè raga veramente vabbè però devi sempre mettere in conto che sto giocando col fucile a pompa che non è la mia arma effettivamente dammi un assalto mh vabbè sì ma stanno giocando con le pistole raga non è che l'abbiamo sottovalutati è che cioè il mio team non si è non ha comprato nemmeno le armi cioè non so se ti stai rendendo conto cioè di base tu all'inizio quando inizia il gioco tu puoi scegliere cosa comprare perché tu di base c'è solo la pistola quindi se vuoi ti compri l'assalto ti compri le granate cioè quella non si è comprata manco l'assalto cioè è normale che perdiamo cioè la pistola me la posso permettere perché la so usare agli altri no vabbè a meno che non sia un pro player ma non so pro player loro vabbè questa è persa è un palese senti prova a fare così ok ok cioè non li ho colpiti ragazzi cioè spiegatemi cioè non lo so spiegatemi voi vabbè no regà però cristo oddio non giocate con la pistola se non sapete usare armi ma dai peccato che non mi posso manca arrendere c'è una partita è proprio tempo perso vabbè vedi io con la pistola da quella distanza la becco questi qua no forco tu vabbè è perso non mi applico tempo perso ok c'è raga ma dai oh però c'è non c'ha senso sto sento cioè ti becca ma comunque cioè è proprio forte questo cioè forte vabbè ti riesci a becca bene sì forte perché ripeto è sempre il team ma fa la differenza c'è uno qua dietro mi sa no mamma mia ragazza eh eh raga ma se mi becco dall'assessi insieme io non posso giocare cioè eh cagami il cazzo che la perdo e stanno sempre in due vabbè sì abbiamo avuto pure io tanto l'abbiamo perso presi singolarmente me li distruggo questi qua no perfetto no no bella 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 niente cagami il cazzo che la vado a perdere su quattro c'è un po' quello ovvio sentiti macina i punti sta giocando da solo wow sto pensando sto pensando lui c'ha bei i perk mi piacciono veramente un sacco i perk sui provato si vai vado di life drain e questo qua della batteria insomma come cazzo si chiama ma la perdiamo secondo me cioè vabbè stiamo 2 a 0 si group up ma sei quei due deficienti per non di altro se ne vanno di là come vuoi vincere ecco vabbè raga porco dio porco e che palle cioè poi io vabbè ovviamente smiro come cristo dio vabbè niente perché uno l'ho shottato è calato mi hanno visto perfetto c'era uno dietro non ci credo godo e cristo e crema mamma mia che godure perché chiudete niente vabbè è più certo mettimi l'assalto in mano te li sfondo vabbè euro è più certo non ci credo il raga però Dammi la tua Ma che cazzo, ora Eh, ma avete beccato la bestia Zucate Ah, godo No, non vedo un cazzo Stavano qua dietro Tanto l'ha perso No, meglio torna come prima, raga Non mi trovo È troppo veloce una certa Dai, proviamoci Dai, raga, dai Dai, cazzo Dai, cazzo, Gianluca Dai Dai, raga, dai Mia sorella che mi manda Funcats Non so che cazzo di video sia Però vi ripeto Perché sto giocando col pompa Perché se giocassi con un'altra arma È difficile che la perdo È proprio come Cioè, col pompa Non mi trovo tanto Sto pensando Che hai visto? Godo A quel me la chiappa muovi Quel figlio De una mignotta Oh, non ci riescono a muovere, va Vedete, eh Vabbè, ma hanno stunato Vedo un cazzo Provo a continuare a sparare Ok, perfetto Io il mio l'ho fatto Godo Succa Ma non fa niente Senta, è morto, però Godo Dai, 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 ragazzi Dagli 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 Che mi ho fatto Cioè Vi ho proprio facilitato il tutto Eh, va, fangulo Schiatto, ah Godo Spesso 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 Eh, schiatto pure tu Senta Accuccia Cane di merda Accuccia Eh, vabbè Niente Eh, purtroppo St'arma Non lo so Qualche volta ti fa Bei danni Altre volte fa Vomitare Però vabbè Dai, dai, raga Dai, dai, dai Ma perché ogni tanto Beh Ma intanto Gira la visuale Sta Lo sapevo Ciao 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 Guarda qui C'ha il Pompà pure lui Capì Perché non vieni No, ma fregato Bravo 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 Però, raga, la vedo dura a vincerla Cioè, se te entrì Potrebbero vincerla Perché Questo gioco Insegna Che il post Può vincere chiunque Ok Accuccia Cane di merda Ma ce l'ho Dovevo tosto Da 2 a 0 A 2 a 2 Anzi Da Tutto al contrario No, devo capire un attimo Ok Devo fare tutto al contrario Ok Da 2 a 0 per l'oro No Non mi trovo Niente, raga Non riesco Ok Da 2 a 0 per l'oro A 2 a 2 Vai, apposta Cosa è riuscito a fare il tutto Allora Ragazzi La dobbiamo solo vincere Però se Eh, guardate Guardate Però guardate Io ho fatto meno Meno kill Però ho fatto più danni Dai ragazzi Dai, 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 dai Ok Eh, raga, non è restato a volo Cazzo, resta Mi Niente Vabbè, meglio se muoio È brutto da dire Però è meglio se muoio Ecco, ma la perdiamo Vai Ti ho fatto 3 kill 3 kill, tipo Ma la perdiamo Senti, non la posso perdere Eh, taparino Ragazzi Dobbiamo entrare in questo cazzo di punto Ecco là Ma no, ma no Fidatevi Ok, ma non entriamo più Perché appena Appena ti fanno fuori Che non entri più in quel punto Non ci entri Perché non c'è squadra, raga Non c'è squadra Non c'è modo per entrare Vai, vai, vai Vai Dai, Roma Spero che capiscano l'inglese Niente No, pigli Ok, 9 9, 6 Lui li sta tenendo Lontani Bravo Ragazzi, fermi Cazzo State fermi Non vi muovete Ognuno al proprio Ognuno al proprio posto Non fa niente Mamma, mi stavo per perdere Mi sposto Lo sapevo No, perché l'ho lanciata Scusate Raga, su Coglione Cioè, ho fatto 3 kill Raga, 3 kill Oh Ce l'è qua Coglione Ah, non è morto Ok, su Scusa Me la so presa Inutilmente Di base L'abbiamo vinta Di base No, comunque ho fatto Più kill Io In generale Mi dispiace Mi dispiace Stai parlando con uno Che Sul rogue Ci ha passato Molto tempo Quindi Mi dispiace Muovere Dove stanno Sì raga Però questo Mi sa che vuole Entrare nel punto Ma dov'è Beh O sta fermo Vediamo No Ma dov'è Sta qui Acuccia Acuccia Let's go Ha fatto il primo Vabbè perché ha fatto più revive No Vabbè non oddio Sì Ha fatto più revive Ha fatto più cattura punti Solo per quello Se non ero io Ho fatto 7000 danni Cioè Dai per piacere 7000 danni Ok Ah beh l'ho livellato No Ora me ne vado con Con glitch Lo preferisco Però fatemi Delle missioni A che sto Sarà Rettossisce Con Questrel Quello di spendere soldi Lo farei facilmente Cioè Guardate lo shotgun A quanto sto 3000 Di 40 100000 Vabbè Poi c'è l'amp Ma l'amp Chi ce l'ha Vabbè Poi vediamo Dedico questa vittoria A Giulia Sempre si sta in live Non lo so Perché Non Non mi Cioè Non Tu ci mi dice Che non sta in live Non so Non so Perché mi usciva Tipo Uno di Zero Una cosa del Genre Cioè Cioè No Uno di Ze Uno Fine Tectonic Egg Castle Omega Ecco ad esempio Questa mappa Mi piace Questa mi piace Quella vecchia Non tanto Questa mi piace Di più Perché ha più Spunti Per spostarti Balletti Sì giù Guarda Questa è una farfalla Le ali della farfalla Che È magia 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 Ah Fanno male Fanno male le mani Sì Non mi ricordo Se faceva così Tipo la farfalla Boh Penso di sì Tipo Sì gesti Un po' strani Butterfly Esatto Vediamo se riesco a bere No perché Amo parte Like a butterfly Perfetto Sì è È la canzone Dei Beatles Butterfly Like a butterfly Che strail master Il prossimo che mi piacerebbe Livella è lui Perché Ah no Non c'ho sta schiena Ecco Butterfly Like a butterfly No Oddio No Questo non me Mi fa schifo United Arab Emirates Stato Degli Emirati Arabi Dovrebbe essere BTS a caso Sì Ma dei BTS La conosci House of Cards Eh Sicuro La conosci Però ce n'è una Che forse Non conosci Dei BTS Perché La cantarono Rap monster V Mi pare No Rap monster Suga E Jin Si chiama tipo School Una roba del genere Che in realtà È una canzone Di un Di un altro Però l'hanno cantata loro Però non mi ricordo Che canzone era Ah quella che fa Tipo Boot Faccio un esempio Tipo Apto Wrang Son Wrang Wrang Quella Bella Quella è bella Ok Questa la perdiamo Eh questa la perdiamo Erika Conosco tutta la loro discografia Beh Sei come mia sorella Praticamente Aghia Sì Io devo vedere L'arma sua Se effettivamente C'ha quel colore Raga perché è strano Cioè com'è possibile Che io ho l'arma Che dovrebbe Avere comunque L'effetto Non ha l'effetto Non c'ha senso Fatemi vedere Devo vedere sempre Se la compra però Vediamo se la compra Cioè vedete Tipo questa Ok questa qua che c'ha Lei non ha Non ha effetti Eh no Ce l'ha Questi gli effetti Perché la mia no? Ma che so io L'ho sfortunato Del Aspetta no ma No la mia ce l'ha All'effetto Non lo so Sì ma le canzioni vecchie Sono le migliori Vabbè sì ovvio Purtroppo Quando diventa Cioè quando dei gruppi Diventano troppo famosi Poi fanno musica Insomma Un po' Commerciale Dai diciamo così Quello è il problema Acuccia E sta a terra Cane Acuccia Babau No no Il drone di merda Il ragno di merda Niente Aspetta 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 Matador No porco Merda Ok ok E uno l'ho fatta E raga ma C'ho una mano C'ho due mani Vabbè Commerciale L'abbiamo detto insieme Sì è quello Purtroppo È Meh Meh Ma che palle Vabbè Io ho fatto Lui aiutati dalla distanza Non potevo fare tanto Cioè Gli ho buttato la granata E vaffanculo 9-8 Eh ma c'hanno allora il punto Quello è il problema Ah da quello che è culo Erika Aspetta Togli stragna di merda Erika Accuccia Erika Beh Cioè raga Veramente non si sono presi il punto Ma so coglioni Cioè gli ho fatto fuori A due di loro Aspetta ho capito Dove stanno Non di qua Eh raga Non li sento No di qua Di qua Di qua Di qua La cuccia Oh merda Non uno dietro No Mi sono preso alla mia revenge Eh che palle Che sto combinando ragazzi Dai raga Non posso giocare A sto gioco Non posso giocare Non posso giocare Eh Posso giocare Vabbè Esattamente sto aspettando Che i cesi atlantic Vengano a milano Ma io in realtà Ho sentito Sto gruppo Ma non so se li ho mai ascoltati Probabilmente si Ma non mi ricordo Quello del discorso Dai Vai Andiamo 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 Questi ma ci fottano No Buttata palesemente fuori Mi ha stunnato Oh porco Dai ragazzi No raga Ma che schifo Fate vomitare Sì ovviamente Resta la scarsa Non resta me Che deficiente Cioè beh Resta la scarsa Ma veramente Non ho mai visto Una roba del genere Cioè non vado a restare Lo scarsuro Onestamente Vabbè Prova a farmi Prova a farmi il giro Io poi come il deficiente Voglio togliere Il ragno bomba Quello Qua ho fatto una giocata Veramente da Stavo di una brutta cosa E di sicuro Già l'hai sentito Sì ma palese Palese Ok stiamo perdendo Ottimo Ti parevo No merda Eh raga Io però Che vi avevo detto Io che vi avevo detto Vi avevo detto che stavolta Perdevamo noi Non so perché C'ho proprio il sesto senso Eh guarda guarda Tutti e tre Dio cane Dio Restano ovviamente Che paura Vabbè è persa È persa Non mi applico È persa Non mi applico Prova a farmi il giro Ma non mi applico Raga È persa proprio Cioè Che palle Stragno Mi ha preso No Non mi prendi Eh mi ha preso invece Vabbè è il giro Giro tondo Quanto è bello il culo Nel mondo Il 5 sono venuti Eh quelli Quelli ad esempio Quelli ad esempio Vabbè guardiamo come si perde Ok Perfetto Vai Bancano Sì Sette ore All'apertura Del regalo Così metto Hype a Giulia Beh mi video Come mi video questo Dai raga Prova veramente Cioè Ok Cioè Calcolate che Il No vabbè Però Di base Quel quicksilver Dover beh Sta più sotto Perché C'ha più eliminazioni Ma di base Vi ripeto Le eliminazioni Non contano Un cazzo In sto gioco Quello che conta Su quanti ne butti A terra Che tu Buttandole a terra Loro non possono Far più niente No Sì ragazzi Sì ragazzi Sto allagga Sto allaggare Porco Cioè Allaggare Non era il gas Che mi faceva L'effetto lag E vai Perdiamo pure Questa GG Vabbè Ho sminchiato Proprio La mira Della granata Allaggare Sto allaggare pure Senti fa niente fa niente fa niente doveva eliminar quel fra Deficienti ci voleva andare ma ci voleva andare ma in tempo a niente sono perché probabilmente non vengono mai Sì raga ma io poco No ma tiro certe smirate Perché dovrei usare il mirino ma non lo uso Quello è il problema Senti però via Beh 6-6 però di base Non vedo un cazzo Mamma mia se vede che non vedo un cazzo Senti pigliatevelo voi il punto Devo andare a combattere raga perché se non combatto questa la perdiamo Porco 2 Chi cazzo ha bussato Non so chi cazzo ha bussato raga No 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 regno di merda Mi chi ha bussato? Brutto Ah ma i GLS raga Aspettate Non so chi cazzo ha bussato Non mi piace Non mi piace Non mi piace Non mi piace gioco senza guccia è la cosa più impossibile da fare perché non sembro niente ok ok non era a me ma non capisco perché hanno bussato qua sinceramente vabbè perso dai raga dai ve la sto a pinga sta qua dai 3 contro 3 dai raga non mi fate vomitare vi prego stanno solo loro vi prego ti prego perso no abbiamo perso vabbè vabbè allora io prendo questo e questo raga basta mo la devo vincere ma 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 quante cazzo di notifiche mi arrivano beh ovviamente si raga questa è l'ultima facciamoci l'ultima beh comunque ho fatto un'ora le missioni le ho finite no oddio in realtà devo vincerla vabbè oddio vediamo sta porco madonna che madonna di dio che palle cioè purtroppo sapete cos'è il pompa è buono però non è tanto buono perché comunque devi ce lo devi back in testa perché sennò non ce lo gli fa un cazzo vabbè perso proprio palese ma voglio eh vabbè ci stanno a rompere proprio il culo cioè proprio ma ve lo dico proprio senza problemi ci stanno proprio a disintegrare l'ano che qui ti ha fatto che qui ti ha fatto che ti ha fatto ecco vedete me l'ho back in testa perciò gli ho fatto tutti questi danni vabbè vabbè dai sì dai quitto dai basta aspettiamo l'ultimo cioè raga non sto capendo niente niente vabbè tanto è persa cioè ci vuole l'arte ce l'ho beccato vabbè raga ce l'ho beccato proprio addosso vabbè l'ultima dai ecco questo è uno di quei momenti che mi fanno veramente incazzare l'ho visti ci sono da qui che palle non ti muove perso no raga no 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 raga ma che cazzo stamattina ha lanciato la spada cioè no raga no ma c'è no no e ovviamente l'MBP su io sì raga però dai con tutto il bene con tutto il bene cioè quella ha lanciato la spada non mi ha beccato abbiamo perso ma com'è possibile va vabbè niente facciamocene un'altra eh no voglio almeno finire le missioni dai raga non se voglio ciò che così dai anzi no basta no basta più che altro perché voglio vedere i filmati e mi voglio pigliare le ricompense vabbè raga io vi ringrazio domani dovrei fare questa fatidica live di compleanno dovrei di base quindi domani forse non faccio rogue e nulla raga vi ringrazio vi mando un bacio un abbraccio e ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti